quando noi siamo messi davanti alla prova alla prova della nostra salute eccetera tutto quello che abbiamo seminato nel nostro cuore nella nostra anima non nel nostro interiore nostro uomo interno come lo chiama san paolo poi quello emerge quindi la nostra fede si vede di fronte alle situazioni emerge dinanzi alle quelle che sono le reazioni diciamo che noi abbiamo e purtroppo alcuni fratelli si vanno in chiesa eccetera ok non è un'accusa non è un'accusa ma purtroppo una una mentalità legalistica e fa molto male purtroppo io le sentivo non so se gesù torna stasera se tu vai in cielo queste minacce qua non sono l'evangelo l'evangelo ci incoraggia a vegliare sì ci dice di perseverare sino alla fine assolutissimamente sì ma non ci dice che se noi cadiamo con una fragilità con un momento dio basta ci abbandona ci lascia un destino di perdizione perché vivere questo non è vivere l'amore paterno del padre che gesù cristo ci ha presentato non è l'amore che è stato riversato dallo spirito santo nei nostri cuori insomma non è la grazia di dio la grazia viene dal latino no gratis in greco caris e vuol dire che cosa vuol dire un dono immeritato dobbiamo ficcarcelo nella testa noi non meritiamo niente solo per il sangue di gesù la nostra santità le nostre opere via discorrendo quelle seguono una vita di vera fede in gesù cristo ma non sono quello che ci fanno guadagnare la salvezza perché ci ha salvati noi operiamo come conseguenza come naturalezza insomma è come mettere il carro davanti ai buoi purtroppo questo poi emerge in quelle crisi diciamo in quelle situazioni cruciali nel quale c'è poco da fare emerge quello che veramente siamo in un di dolore di fronte magari al tramonto della nostra vita ecco perché io tante volte insisto in maniera veramente anche assordante sulla sana dottrina sulla parola di cristo sulla grazia di dio sul regno di dio affinché non ci siano estremismi e insegnamenti che purtroppo poi vanno hanno immagini sbagliate veramente di dio non ti puoi e neanche io come dire guadagnare l'amore di dio dio ci ama a prescindere ci ama dato gesù cristo a morire sulla croce quando noi eravamo ancora peccatori quindi noi non possiamo meritarci la grazia di dio meritarci le attenzioni di dio meritarci l'amore di dio dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio gesù cristo se non ci ficchiamo in testa soprattutto nel cuore questa verità noi purtroppo vivremo un cristianesimo andremo in cielo siamo salvati va bene ma è un cristianesimo di sconfitta non è quello che io leggo tutti i giorni nel nuovo testamento quello che io leggo tutti i giorni è sicuramente un'esortazione a vivere una vera fede viva e questa viva fede produce opere è per grazia che siete stati salvati ciò non viene da voi è il dono di dio affinché nessuno se ne vanti e poi dice noi siamo stati salvati affinché poi pratichiamo quelle opere buone precedentemente preparate per voi ma che veramente lo spirito santo faccia capire la immagine giusta di dio che è un padre misericordioso l'immagine di gesù che sulla croce ha abbracciato tutti noi indipendentemente dalle nostre miserie dalle nostre dalle nostre mancanze è lo spirito santo che ci trasforma pian pianino noi abbiamo un bel cartello con scritto lavori in corso da qui fino a che entreremo nel regno dei cieli quindi non dobbiamo in alcun modo disperarci non ha niente a che vedere con cristiani i frutti marci di questa teologia farisaica legalistica che io disconosco e ripudio in maniera proprio aperta sono queste cose qua credere poi nel momento in cui ci si scopre deboli ci si scopre che non eravamo quello che pensavamo di a me di di essere no tu facciamo cadiamo nella disperazione no se abbiamo la giusta immagine del padre che ci ama non cadremo nella disperazione ma ci aggrapperemo ancora di più a lui caro padre grazie che nonostante quello che sono tu mi ami gloria al nome di gesù spero che questo insomma siano parole che insomma ci facciano un pochino ragionare ciascuno di noi noi non possiamo accettare un'immagine diversa da quella che ci ha presentato gesù che è l'immagine del padre misericordioso voi che siete malvagi che sapete dare cose buone ai vostri figlioli quanto più il padre vostro che nei cieli colui che non ha risparmiato il proprio figlio scriverà paolo come non vi darà con lui tutte le altre cose con lui capisci con cristo cristo vivente noi cristo parola di dio cristo il maestro l'insegnante e colui che spiega il padre ecco che allora ci mette in relazione noi diventiamo figli nel figlio ma scusami ma noi siamo buoni coi nostri figli c'è dio invece ti deve abbandonare perché hai avuto un dubbio perché hai avuto un momento di defiance no ragazzi no siete nella mano mia detto gesù nessuno vi rapirà dalla dalla mia mano chi vi potrà separare dall'amore di dio che in cristo gesù né morte né principati fa un elenco che non finisce più solo noi possiamo sciaguratamente può capitare questo che usciamo fuori dal disegno di dio non perseveriamo in quella grazia abbondante in cui il padre ci ha voluti perché comunque il liber arbitro non viene annullato allora a quel punto certo che c'è la possibilità dell'apostasia certamente che c'è la possibilità ma non stiamo parlando di questo stiamo parlando di scoprirci quello che siamo deboli fragili peccatori salvati per grazia gesù è un vero salvatore venuto per veri peccatori dobbiamo per questo dice san paolo allora visto che la grazia abbonda dobbiamo abbondare nel peccato così non sia il contrario proprio perché facciamo esperienza della grazia di dio ecco che questa grazia ci trasforma ci ammaestra scrive l'apostolo paolo nella lettera a tito proprio a tenerci lontano dalle mondane concupiscenze a tenerci lontano diciamo da dalle corruzioni di questo mondo perché perché vivremo proprio nell'amore intenso con il padre e allora non c'è bisogno di una regola esterna ti ricordi ezechiele cosa promette nella nuova alleanza dice allora io vi darò un cuore nuovo toglierò il cuore di pietra sì perché quelle leggi vengono scritte nei nostri cuori invece a volte certe teologie vanno a ripristinare come dire una sorta di antico testamento e lo mettono praticamente nel nuovo testamento e ciò quasi offende il signore perché comunque vanifica l'opera perfetta e completa di gesù cristo sulla croce quindi riposiamo sereni sereni nell'amore di dio veramente se no esauriamo poi in questo momento che è un momento totalmente di di oscurità ma noi dobbiamo dimorare nel riposo entrati in quel riposo gesù cristo è nostro sabato san paolo scrive ai gatti dicendo ma io non lo so voi osservate mesi stagioni io credo di essermi affaticato in vano per voi siete ancora messi in quella maniera lì cioè state ancora così avete iniziato con lo spirito e mo volete finire con la carne e non ci siamo ragazzi questo è un po il punto